Si mettono così in linea, sulle palle latine, non c'è cosa peggiora per un difensore di correre verso la propria porta. Rivediamo quello che è accaduto, se non arrivava la Europa, arrivava la Mastrofuscia, al centro dell'Alecimura c'era la Mastrofuscia. Quante volte le situazioni sono messe così, a rastrello, nessuno si mette dietro l'uomo a tenere.